Sarà una grande occasione quella di questa sera, la partita della vita, per festeggiare la promozione del Palermo in Serie B. Dunque tutti allo stadio Renzo Barbera, partita dalle ore 19. Avete ancora tempo naturalmente per organizzarvi. Sarà un incontro di beneficenza organizzato da Mielo Lesioni Sicilia, a proposito naturalmente della solidarietà a favore delle persone con medullo lesi spinale. Parteciperanno a questo triangolare di calcio la Nazionale Italiana Comici, la Nazionale DJ con i più grandi DJ italiani che saranno qui allo stadio Renzo Barbera, l'Associazione Calcio Medici e la rappresentativa della Polizia di Stato. Dunque non perdete questo appuntamento importantissimo intanto per fare solidarietà, ma sarà una grandissima festa con colori rosa-nero per festeggiare il Palermo promosso in Serie B e per naturalmente divertirsi con i comici, i DJ e quanti parteciperanno a questo appuntamento. Non perdete dunque questa occasione di festeggiare tutti insieme allo stadio Renzo Barbera. Vi aspettiamo.